ascolta gli ho detto facendo la commedia come può farla uno che sta per morire effettivamente io posso renderti più ricco del re farti guadagnare milioni e milioni a una condizione però e gli apriva gli occhi imbambolati quale quale tutto quel che volete mio criminale al posto di tre numeri te ne prometto quattro cambia i tuoi vestiti con i miei se non è che questo ha esclamato slacciandosi i primi bottoni dell'uniforme io mi ero alzato dalla sedia ed osservavo tutti i suoi movimenti con il cuore intumulto vedevo già aprirsi le porte davanti alla divisa di gendarme e la piazza e la strada e il palazzo di giustizia dietro di me ma gli si è girato con aria indecisa ma non sarà mica per uscire di qui ho capito che era tutto perduto tuttavia ho fatto un ultimo tentativo inutile e insensato sì è così gli ho detto ma la tua fortuna è fatta mi ha interrotto ah no ah già e i miei numeri perché siano buoni bisogna che voi siate morto mi sono seduto di nuovo muto e disperato per tutta la speranza che avevo avuto ho chiuso gli occhi e ho cercato di dimenticare il presente nel passato mentre penso i ricordi della mia infanzia e della mia giovinezza mi ritornano ad uno ad uno dolci calmi ridenti come delle isole di fiori su questo gorgo di pensieri neri e confusi che mi tempestano la testa mi rivedo bambino a scolaro fresco e pieno di risa mentre gioco corro e rido con i miei fratelli nel grande viale alberato di quel giardino selvaggio dove sono passati i miei primi anni vecchio chiostro monacale che domina la fosca cima della Val de Grasse e poi quattro anni più tardi eccomi ancora là sempre ragazzo ma già sognatore appassionato nel giardino solitalia c'è una giovinetta la piccola spagnola dai grandi occhi e i folti capelli dalla pelle bruna e dorata le labbra rosse le guancia rosse l'andalusa quattordicenne pepa le nostre mamme ci hanno detto di andare a correre insieme noi siamo venuti a passeggiare ci è stato detto di giocare e noi discorriamo ragazzi della medesima età ma non uguali ancora un anno fa tuttavia correvamo e litigavamo insieme io contendevo a pepita la più bella mela del frutteto la picchiavo per un nido di uccelli lei piangeva io dicevo ti sta bene e tutte e due andavamo a piangere insieme dalle nostre mamme che a voce alta ci davano torto e di nascosto ragione ora lei si appoggia al mio braccio e io sono tutto fiero e silenzioso camminiamo lentamente parlando sottovoce e lascia cadere il fazzoletto io glielo raccolgo le nostre mani toccandosi tremano lei mi parla dei piccoli uccelli della stella che si vede là in basso del tramonto vermiglio dietro alle piante o delle sue amiche d'albergo del suo vestito e dei suoi nastri diciamo cose innocenti e tutti e due arrossiamo la bimbetta si è fatta signorina quella sera era una sera d'estate eravamo sotto i castagni in fondo al giardino dopo uno di quei lunghi silenzi che riempivano le nostre passeggiate lei lasciò di colpo il mio braccio e mi disse corriamo la vedo ancora tutta in nero per il lutto di sua nonna le era passata per la testa un'idea di bimba pepa era tornata pepita e mi aveva detto corriamo si mise a corrermi avanti con la figura sottile io la insegui lei fuggiva e l'aria della corsa le sollevava a tratti la pellegrina nera sulle spalle la raggiunsi vicina alla fontana in rovina sedetevi qui mi disse è ancora giorno chiaro leggiamo qualcosa avete un libro avevo con me il secondo volume dei viaggi di spallanzani aprii a casa e mi avvicinai a lei lei appoggiò la sua spalla alla mia e ci mettemmo a leggere sottovoce ognuno dalla propria parte la stessa pagina prima di girare il foglio lei era sempre obbligata ad aspettare la mia mente andava più ad agio della sua avete finito mi diceva e avevo appena iniziato restammo così l'una accanto all'altra seduti a leggere a guardarsi negli occhi oh mamma mamma disse lei rientrando sapessi quanto abbiamo corso e rimasi in silenzio non dici niente mi disse la mamma hai l'aria di essere triste e avevo il paradiso nel cuore è una sera quella che ricorderà per tutta la vita tutta la vita sono appena suonate le ore non so quali perché non sento bene il martello dell'orologio mi pare infatti di avere nelle orecchie come il rumore di un organo sono i miei ultimi pensieri che mormorano in questo momento supremo in cui mi raccolgo nei miei ultimi ricordi ritrovo in essi con orrore il mio delitto e vorrei pentirmi ancora di più avevo più rimorsi infatti prima della condanna poi non mi sembra ci sia più stato posto che per i pensieri di morte purtuttavia io vorrei ben maggiormente pentirmi quando ho pensato un minuto a quello che è successo nella mia vita e ritorno al colpo d'ascia che deve terminarla tra breve io rabbrividisco tutto come per una nuovissima cosa la mia bella infanzia la mia bella giovinezza la stoffa dorata dall'estremità insanguinata tra il passato e il presente c'è un fiume di sangue il sangue mio e dell'altro se un giorno si leggerà la mia storia dopo tanti anni innocenti e felici non si vorrà credere a quest'anno esecrabile che si apre con un delitto e si chiude con un supplizio sarà troppo mostruosamente strano eppure non ero un perverso oh morire tra poche ore e pensare che un anno fa nello stesso giorno ero libero e innocente che facevo le mie passeggiate d'autunno e che vagavo sotto gli alberi con i piedi affondati tra le foglie e in questo stesso momento ci sono vicinissimi a me in queste case che fanno cerchio intorno al palazzo e alla greve e in tutta Parigi degli uomini che vanno e vengono discorrono e ridono leggono il giornale e pensano ai loro affari dei mercanti che vendono delle ragazze che preparano i loro vestiti da ballo per questa sera delle madri che giocano con i loro bambini mi ricordo che un giorno quando ero bambino andai a vedere il capannone di Notre Dame ero già stordito per aver salito l'oscura scala a chiocciola per aver percorso la debole loggia che unisce le due torri per aver avuto a Parigi sotto i piedi quando entrai nel castello di pietra e di legno dove pende il campanone con il suo battaglio che peserà un migliaio di libre avanzavo tremando sulle tavole sconnesse guardando da lontano questa campana così famosa tra i ragazzi e il popolo di Parigi e notando non senza paura che i tetti coperti di Ardesia che circondavano il campanile con i loro piani inclinati erano al livello dei miei piedi ogni tanto tra gli interstizi vedevo come a volo d'uccello la piazza di Paris-Nautre-Dame e i passanti come formiche all'improvviso l'enorme campana suonò una vibrazione profonda scosse l'aria e fece oscillare la grossa torre il tavolo subbalzò sulle travi per poco un rumore non mi fece cadere vacillai come stessi perdendo l'equilibrio e fossi sul punto di scivolare sui ripidi tettucci d'Ardesia e per il terrore mi cettai sulle assi stringendole strette con le braccia senza voce e senza fiato con quel terribile scampanio nelle orecchie e quel precipizio sotto gli occhi quella piazza lontana dove si incrociavano tanti passanti tranquilli e invidiati ebbene mi sembrava di essere ancora sulla torre del campanone è una specie di sturdimento e di vertigine c'è come un rombo di campana che scuote la cavità della mia testa e intorno a me non vedo più quella vita piana e tranquilla che ho abbandonata e dove gli altri uomini camminano ancora se non da lontano e attraverso i crepacci di un abisso il palazzo municipale è un edificio sinistro con il suo tetto acuto e ripido la sua guglia bizzarra e il grande orologio bianco le sue mille finestre le sue scale consumate dai passi e i due archi a destra e a sinistra e là insieme alla greve fosco lugubre la facciata tutta corrosa dalla vecchiezza è così nero che è nero anche il sole i giorni dell'esecuzione esso vomita gendarmi da tutte le porte e fissa il condannato da tutte le sue finestre e la sera l'orologio che ha segnato l'ora rimane luminoso sulla tenebrosa facciata è l'una e un quarto ecco cosa provo in questo momento un violento mal di testa la schiena fredda la fronte in fiamme ogni volta che mi alzo o mi piego mi sembra che ci sia un liquido che ondeggia nella mia testa che mi fa battere il cervello contro le pareti del cranio ho dei trasalimenti improvvisi e ogni tanto la penna mi cade dalle mani come per una scossa elettrica gli occhi mi bruciano come se fossi nel fumo e ho male alle giunture ancora due ore e 45 minuti e sarò guarito loro mi dicono che non è niente che non si soffre che è una fine dolce che la morte in questo modo è completamente semplificata così dunque questa agonia di sei settimane e questo rantolo di tutto il giorno cosa sono le angosce di questa giornata irreparabile che scorre così lentamente e così veloce che cos'è allora questa scala di tortura che termina sul palco forse che non sono uguali le convulsioni sia che il sangue si esaurisca goccia a goccia sia che l'intelligenza si spenga pensiero a pensiero e poi non si soffre ne sono ben sicuri chi l'ha detto loro si racconta che mai una testa tagliata si sia sollevata sanguinante al bordo del cesto e abbia gridato al popolo non fa per niente male ci sono dei morti alla loro maniera che sono venuti a ringraziarli e a dir loro è una bella invenzione tenetevela cara il meccanismo è ottimo forse Robert Spier forse Luigi XVI no niente meno di un minuto meno di un secondo e la cosa è fatta non si sono mai messi soltanto con il pensiero al posto di quello che è là nel momento in cui il pesante coltello che cade morde la carne rompe i nervi stritola le vertebre ma che un mezzo secondo il dolore è sparito orrore è strano come io pensi continuamente al re ho un bel fare un bel scuotere la testa nell'orecchio ho una cosa che sempre mi dice in questa stessa città a questa stessa ora e non lontano da qui in un altro palazzo c'è un uomo unico come te con questa sola differenza che lui è tanto in alto quanto tu in basso la sua vita intera minuto per minuto non è che gloria grandezza delizia ed ebbrezza tutto intorno a lui è amore rispetto venerazione le voci più alte parlando gli diventano sommesse e le fronti più fiere si inchinano egli non ha che seta ed oro sotto gli occhi a quest'ora tiene qualche consiglio dei ministri dove tutti sono del suo parere oppure pensa alla caccia di domani al ballo di questa sera sicuro che la festa arriverà allora fissata e lasciando agli altri la cura dei suoi piaceri ebbene quest'uomo è di carne e ossa come te e perché immediatamente crollasse l'orribile palco perché tutto ti fosse reso vita libertà fortuna famiglia basterebbe che scrivesse con questa penna le sette parole del suo nome in fondo a un pezzo di carta o che semplicemente la sua carrozza incontrasse la tua carretta e lui è buono e non chiederebbe forse niente di meglio e non sa niente ebbene dunque abbiamo coraggio con la morte prendiamo quest'orribile idea a due mani e guardiamola in faccia chiediamole cosa sia cerchiamo di sapere cosa vuole da noi giriamola da tutte le parti scrutiamo l'enigma guardiamo orsù nella tomba mi sembra che quando ai miei occhi saranno chiusi vedrò una grande luce e degli abissi di luce in cui il mio spirito rotolerà senza fine mi sembra che il cielo sarà luminoso per se stesso che le stelle diventeranno delle macchie scure e che al posto di essere come per gli occhi dei vivi delle pagliuzze d'oro su un velluto nero sembrano dei punti neri su un velluto d'oro oppure mi è disgraziato non ci sarà che uno spaventevole gorgo profondo le cui pareti saranno tappezzate di tenebre e dove io cadrò continuamente circondato da larve sbucanti dall'ombra oppure svegliandomi dopo il colpo mi troverò forse su una qualche superficie umida e liscia mentre striscio nell'oscurità girandomi su me stesso come una testa che rotola e ci sarà un gran vento che spingerà e altre teste che rotoleranno mi sbatteranno qua e là e ci saranno mari e ruscelli di un liquido tiepido e sconosciuto e sarà tutto nero quando i miei occhi nella loro rotazione saranno rivolti verso l'alto non vedranno che un cielo oscuro che grava su di loro e lontano lontano in fondo nei grandi archi di fumo più neri delle tenebre e nella notte volteggeranno delle piccole fiammelle rosse che avvicinandosi diventeranno uccelli di fuoco e sarà così per tutta l'eternità e può anche darsi che in certe nere notti d'inverno i morti della greve si riuniscano sulla piazza che è loro sarà una folla pallida e insanguinata e io non vi mancherò non ci sarà l'una e si parlerà a voce bassa il palazzo municipale sarà là con la sua faccia butterata e il suo tetto frastagliato e il suo orologio che è stato per noi senza pietà sulla piazza ci sarà una ghigliottina dell'inferno dove un demonio ucciderà un boia alle 4 del mattino e a nostra volta faremo folla intorno è probabile che sarà così ma se quei morti ritorneranno sotto che forma ritornano cosa conservano del loro corpo incompleto o mutilato che cosa scelgono essi è il tronco o la testa che è lo spettro oi me cosa fa mai la morte alla nostra anima che natura le lascia che cosa le toglie e le dona dove la manda qualche volta le presta gli occhi di carne per guardare sulla terra e piangere ah un prete un prete che sappia tutte queste cose voglio un prete e un crocifisso da baciare un prete mio dio l'ho pregato di lasciarmi dormire e mi sono gettato sul letto in realtà avevo un fiotto di sangue nella testa che mi ha fatto dormire il mio ultimo sonno di questa specie ho fatto un sogno ho sognato che era notte e che ero nel mio studio con due o tre amici non so più quali mia moglie era a letto nella camera accanto e dormiva con la bambina parlavamo sotto voce i miei amici ed io e quello che dicevamo ci atterriva all'improvviso mi sembrò di sentire un rumore in qualche parte dell'appartamento un rumore debole strano indeterminato i miei amici avevano sentito come me ascoltammo era come una serratura che si apriva sordamente come un chiavistello che si facesse scorrere a poco a poco c'era qualcosa che ci agghiacciava avevamo paura pensammo potessero essere dei ladri che si erano introdotti in casa a quell'ora così tarda di notte decidemmo di andare a vedere mi anzaia presi la bugia gli amici mi seguivano a uno a uno attraversammo la vicina camera da letto mia moglie dormiva con la bambina arrivammo nel salone neanche i ritratti erano immobili nelle loro cornici d'oro sulla tapezzeria rossa mi sembrò che la porta del salone alla sala da pranzo non fosse a posto come sempre entrammo nella sala da pranzo ne facemmo il giro io camminavo per primo la porta sulla scala era chiusa bene le finestre anche arrivati vicino alla stufa vidi che l'armadio era aperto e il battente tirato verso l'angolo del muro come per nasconderlo questo mi sorprese pensammo ci fosse qualcuno nascosto dietro la porta e feci per chiudere resistette stupefatto tirai più forte ed essa bruscamente cedette scoprendoci una vecchietta con le mani penzoloni gli occhi chiusi immobile in piedi incollata nell'angolo del muro c'era qualcosa di orribile in tutto questo a pensarci mi si rizzarono ancora i capelli cosa fate qui chiesi alla vecchia lei non rispose le domandai chi siete non rispose non si mosse rimasi ad occhi chiusi gli amici ancora mi dissero è certamente la complice di quelli che sono entrati con cattive intenzioni sentendoci venire sono scappati lei non avrà potuto fuggire e si è nascosta qui l'ho interrogata di nuovo è rimasta senza voce senza vita senza sguardo uno di noi le ha dato uno spintone è caduta è caduta tutta ad un pezzo come un pezzo di legno come una cosa morta l'abbiamo mossa con il piede poi due di noi l'hanno alzata e appoggiata di nuovo al muro non ha dato nessun segno di vita le abbiamo gridato nell'orecchio è rimasta muta come se fosse sorda cominciavamo a perdere la pazienza e nel nostro terrore c'era ormai anche la collera uno mi ha detto mettete la bugia sotto il mento le ho accostato la fiamma allora ha aperto un occhio a metà un occhio vuoto fosco spaventoso e senza sguardo ho tolto la fiamma e le ho detto ah finalmente risponderai vecchia strega chi sei l'occhio si è chiuso come da solo ma è troppo hanno detto gli altri ancora la bugia ancora bisognerà bene che parli ho rimesso il lume sotto il mento della vecchia allora lei ha aperto lentamente i due occhi e ci ha guardati tutti uno dopo l'altro poi chinandosi bruscamente con un gelido soffio ha spento la bugia nel medesimo istante nelle tenebre ho sentito penetrare tre denti acutissimi nella mia mano mi sono svegliato tremante e bagnato di sudore freddo il buon cappellano era seduto ai piedi del letto e leggeva delle preghiere ho dormito molto tempo gli ho chiesto figlio mio mi ha risposto avete dormito un'ora vi hanno portato vostra figlia è nella camera vicina che vi aspetta non ho voluto che vi svegliassero ah ho gridato mia figlia portatemi mia figlia grazie a tutti grazie a tutti